Gasparri si tenga forte, perché ha sentito, si possono fare delle manovre e alla fine tutto fa per non pagare. Come diceva Friedman, questo è un paese dove molti, troppi, milioni di italiani dichiarano un reddito zero. Quindi poi alla fine sono sempre gli altri a dover sostenere tutta la baracca. Quindi meno gente paga, più le tasse alte devono stare, perché questa è la triste verità Gasparri. Ecco perché io sono favorevole a metterli... Pagare meno, pagare tutti. Noi abbiamo proposto la famosa tassa piatta, la flat tax, perché è meglio avere una aliquota, una percentuale più equa, più bassa per tutti e poi essere severissimi su chi non paga. Adesso però siete all'opposizione. E noi la proponiamo questa condizione. Fino a quando non si sa, ma siete all'opposizione. Fino a quando per poco mi pare di dire. Fino a quando per poco mi pare di dire.